la prenotazione. Cambiamo argomento, oltre 250 ragazze e ragazzi fra i 18 e i 29 anni completeranno tra fine aprile e maggio il loro anno di servizio civile presso le diverse associazioni Ampas del Piemonte. Vediamo. Ci troviamo oggi in Croceverde Torino per una giornata conclusiva nella formazione del servizio civile di Ampas regione Piemonte. Abbiamo convocato tutti i ragazzi che ehm ci hanno accompagnato in questo anno di servizio civile per fare un'ultima giornata di formazione legata al tutoraggio per eh cercare di parlare di tematiche eh e di valori che possono aver acquisito in questo in questo anno di servizio civile e quindi oggi eh si parla di cittadinanza attiva, si parla di competenze, di di informazione e eh soprattutto anche eh di cercare di eh far capire loro che questo servizio civile potrebbe anche essere eh spendibile eh come competenze nel mondo del lavoro perché questo è uno degli ambiti importanti del servizio civile. Eh siamo riusciti eh dopo questo periodo di pandemia grazie un pochino al rallentamento di queste restrizioni a poter organizzare questo evento conclusivo eh in modo che eh davvero i ragazzi potessero trovarsi tutti insieme e e in qualche modo anche festeggiare perché no la chiusura di questo anno che noi speriamo sia stato per loro